Ti piacerebbe avere una casa indipendente con tre camere da letto, sala, cucina, possibilità di fare due bagni, garage, giardino privato, a pochissimi chilometri da Faenza? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa casa indipendente in vendita. Siamo tra Faenza e Forlì, ma ben prima della Cosina e da questa strada abbiamo l'accesso al garage e al giardino privato. Così com'è, la casa ha sicuramente bisogno di qualche intervento, ma ha ampissime potenzialità, perché al piano terra troviamo un ingresso con il vano scale, il bagno finestrato con la vasca, la cucina, il salotto e un'ulteriore stanza che può essere utilizzata o come studio o come salotto, soggiorno, lavanderia o stileria. Mentre al piano primo abbiamo già tre camere da letto, una matrimoniale, due camere singole e un'ulteriore stanza che può essere o la quarta camera da letto oppure il secondo bagno. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!